Ciao Luigi, buon pomeriggio a tutti. Ti volevo chiedere, come stai lavorando con il Tartufo Maiella insieme a Lola Kuzar di 10 mesi? Ciao e grazie. Ciao Lady Traffola. Allora, niente, Lola, che cosa stiamo, come stiamo facendo il test Maiella? L'abbiamo vista a 10 mesi, quindi una parte del carattere è già stata, già si è strutturata. E Traumi non ne ha nessuno, è stata trascurata sotto l'aspetto del lavoro, ma trascurata proprio a livello di empatia da Kuzar. Le criticità che ho riscontrato sono non entra tanto nello spazio vitale con l'essere umano, e questa cosa a Tartufi crea una grossa incongruenza, perché quando ci avviciniamo, quando ci chiniamo vicino al cane, si deve invadere lo spazio vitale, quindi ci vuole tanta tanta fiducia. Ha una perplessità a entrare in macchina, si sta migliorando molto sotto questo aspetto, e il Vieni non lo conosce come comando, adesso glielo stiamo insegnando e lo sta apprendendo molto molto bene. Tutto questo gli dava un atteggiamento al guinzaglio molto discutibile, quasi da cane problematico al guinzaglio, cioè ti passava a destra e a sinistra, non ti permetteva di camminare, tante cosine. Adesso queste cose le stiamo sistemando, la passione di base è super, il carattere è super, è un carattere giustissimo. Adesso che sono praticamente da sabato, quindi sono quattro giorni che ci stiamo lavorando intensamente, questa mattina il livello di risposte mi è piaciuto molto. Chiaramente questi aspetti non vanno assolutamente trascurati per far sì che si mantenga una struttura solida, fatta di sostanza e non di fumo. Ciao a tutti!